Gomez Selena Gomez è stata in grado di salvare una fan dal suicidio grazie ai social. Dopo che i fan della cantante Elle hanno indirizzata verso il profilo Instagram di una sua followers, che aveva annunciato di avere intenzione di togliersi la vita, Selena Gomez ha inviato un messaggio alla ragazza, intimandola a non farlo, non la prima volta che succede una cosa del genere. In passato, anche Lady Gaga aveva salvato la vita di un suo fan. E' proprio vero che, a volte, le star sono in grado di fare miracoli. Selena Gomez salva una fan dal suicidio nella giornata di domenica 15 ottobre. Selena Gomez, cantante e attrice americana, con centinaia di migliaia di followers su Instagram, ha salvato la vita di una sua fan. I Selenators, Cos si fanno chiamare i fan di Selena Gomez. Hanno, infatti, notato che una di loro pubblicava sul suo profilo contenuti particolarmente tristi. Con intenti e anche suicidi. Domenica, la fan in questione ha scritto sui social che, il giorno dopo, si sarebbe tolta la vita e i followers della Gomez hanno immediatamente cominciato a taggare. Selena Zotto il post della fan. Per fare in modo che la cantante intervenisse. Selena, non appena ha notato i vari tag, ha deciso di inviare un messaggio alla sua follower. Provando a farle capire che il suicidio non era la soluzione giusta per risolvere i suoi problemi. Non mi interessa se mi ami o mi odi. Il suicidio non mai la soluzione. Se hai bisogno di qualcuno per parlare. Ti prego di inviarmi un messaggio diretto. Sei amato dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Fidati di me. Io ti voglio bene, ha scritto Selena. Ha aggiunto poi. Prima di pensare di rinunciare alla tua vita. Pensa a tutte le vite che potresti salvare. Le toccanti parole della Gomez sono state in grado di convincere la fan a non perseguire il suo intento. Altro su MSN. Eglio e le storie tese si sciolgono. A post.